Quattro testi in due settimane. L'ultimo lancio di missili da parte di Pyongyang è avvenuto nelle prime ore di questo martedì in risposta alle esercitazioni congiunte tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti. L'allarme è stato lanciato da Seoul. Ignoto il tipo di missile usato, ma Washington ha fatto sapere di monitorare da vicino la situazione. E anche il Giappone ha descritto come una grave minaccia e un serio problema per Tokyo i recenti lanci dei missili balistici condotti dalla Corea del Nord. Per il momento il regime di Pyongyang non ha fornito dettagli sull'operazione, ma ha spiegato che è conseguenza del tradimento da parte statunitense degli accordi di distensione siglati a Singapore e minacciato che il prezzo sarà alto per gli Stati Uniti se non fermano le esercitazioni.